Siamo in conclusione della 41esima edizione di Eima International e possiamo dire con soddisfazione che tutti i migliori auspici, tutte le tendenze che avevamo impostato di crescita per quanto riguardava espositori, meeting, delegazioni e per quanto riguarda soprattutto i visitatori sono state confermate. Abbiamo oggi a consuntivo circa 220.000 unità, persone che sono entrate in Fiera Bologna in questi cinque giorni di Eima International. Devo dire che ovviamente questo ci rende particolarmente soddisfatti, particolarmente orgogliosi perché vuol dire che tutte le strategie e le politiche che abbiamo fatto per poter alzare il livello sia in numero ma soprattutto in qualità di visitatori hanno dato il risultato sperato. Soprattutto c'è stato un incremento sostanzioso di quelli che sono i visitatori stranieri. Abbiamo avuto via via trend di crescita che hanno sfiorato in alcuni giorni il 30% di visitatori stranieri e anche qui con un picco dal punto di vista di qualità estremamente elevato. In quanto abbiamo insieme a Licea, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Esteri lavorato molto sulla selezione e soprattutto sull'informazione che abbiamo dato dal punto di vista diciamo promozionale al nostro evento e questo ha dato davvero dei risultati eccezionali. Tanto è vero che gli incontri, i B2B, i convegni ai quali gli stranieri hanno partecipato sono stati visti dai nostri associati e da tutti gli espositori con grande positività, con grande favorevolezza proprio perché il contenuto è stato tutte le volte un contenuto basato su esigenze reali e fatti concreti, cosa dei quali abbiamo bisogno assolutamente. Non posso fare altro a questo punto che ringraziare con il cuore veramente tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento a cominciare ovviamente dallo staff intero di Federuna Coma che si è adoperato in tutto questo periodo per dare modo a tutti i nostri espositori di poter avere soddisfazione ovviamente a Bologna Fiere che ci ha seguito in tante nostre richieste. Il lavoro con Bologna Fiere continuerà per migliorare sempre di più questo sito espositivo che deve diventare sempre di più di alto livello e adeguato alle esigenze odierne. Ringrazio ovviamente anche le istituzioni che ci hanno seguito in questo nostro percorso a cominciare dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il MISE, lo sviluppo economico, l'ICE, ringrazio particolarmente il Ministero degli Esteri, ringrazio la Regione Emilia Romagna e chiaramente tutte le persone, i servizi e quello che fa girare un ingranaggio così complesso come 1800 espositori e 220.000 visitatori tutti insieme concentrati in cinque giorni. Concludo ringraziando anche la città di Bologna perché ha patito un pochino l'affluenza così concentrata dal punto di vista anche logistico ma credo che comunque questo sia un patrimonio anche della città perché tutti questi clienti, tutti questi espositori, tutti questi visitatori hanno comunque potuto beneficiare anche di una città molto bella e quindi hanno via via apprezzato anche l'ospitalità, gli alberghi, i ristoranti e i negozi. Ovviamente estendo alla fine il mio ringraziamento a Forze dell'Ordine, a tutti quelli che in un qualche modo anche con i loro servizi esterni hanno contribuito al nostro successo. Grazie e arrivederci a EIM International 2016.